Abbiamo festeggiato i 30 anni del 25 aprile e proseguiamo festeggiamente la riflessione con questo incontro, Resistere per costruire la pace, un incontro voluto dall'Icola della Fidea per l'Educazione al Cipro Informazione, al Cibuc e alla Fidea Medica, un incontro che parte dal confronto alla riflessione su tra i libri, dialogo per la pace, pedagogy della resistenza contro il razzismo, Mimesis, Giovanni Pesce per non identificare, sempre Mimesis e i carnifici della Sperling. Abbiamo qua il curatore dei libri e gli autori, introdotto abbiamo Daniele Barchessi, i carnifici, capo dell'attore di Radio 24 e su 24 ore, il presidente di Arci e Ponte di Memoria e poi abbiamo Laura Dussi e Fabrizio Cracolici, Laura Dussi e Cracolici, scusate, Laura Dussi e giornalista di Dislink e qualche bel progetto per non dimenticare e Fabrizio invece è presidenza dell'anti-sezione di Nova Milano e gli allumeranno con Celeste, con Celeste Grossi, la riferisce di Ecol e a cui lascio adesso subito la parola.